Valerio, appena qualificati in semifinale di Coppa Italia, eliminati i campioni in carica del Pasano, se parliamo di in fretta esageniamo? No, in fretta no, ce l'aspettavamo, siamo venuti qua in condizioni un po' particolari, 12 giocatori, Alex Bettini secondo portiere, sta male quindi è stata a casa l'ultimo. Abbiamo dato il sangue, ci credevamo, noi sappiamo che magari non abbiamo lavorato proprio al meglio perché è stato un po' abbastanza sfortunato per noi tra il confine e tutto, però ce l'abbiamo messa tutta, col cuore e forse ci vanno anche le imprese. Domani c'è Romagna? Domani c'è Romagna, già facciamo una docetta veloce, festeggiamo 20 minuti e poi testa già Romagna. Volevo solo ringraziare un caro amico, Adam, che mi sta sempre vicino, ma ha una grandissima mano, questa vittoria la dedico alla società, alla mia famiglia, ad Adam e ad Artù, grazie a tutti, ciao ciao.